Insieme in salute il progetto pilota pensato dal comune di Lerici e finanziato dal bando della fondazione Carispezia con risorse pari a 30.000 euro per lenire le difficoltà emerse durante l'attuale periodo pandemico come la solitudine, i rapporti sociali fragili e l'indebolimento della componente psicologica e razionale. Obiettivo del progetto è infatti quello di promuovere il concetto di salute con lo scopo principale non solo di prevenire le malattie ma anche di creare nella comunità e nei suoi membri un livello di competenza che la migliori e la mantenga. Un'occasione importante questa mattina nel comune di Lerici è stato presentato un progetto rivolto agli anziani il cui finanziamento è legato ad un bando uscito nel 2021 a favore proprio della comunità anziana del nostro territorio, un territorio fatto di persone che sono in là con l'età ma che hanno la necessità sicuramente di essere aiutate supportate a superare un momento di difficoltà legato alla pandemia. Quindi uno stimolo che Fondazione Cari Spezza attraverso il bando ha voluto lanciare agli enti pubblici in collaborazione sempre con gli enti privati per proporre attività di socializzazione diversa rispetto al passato di relazioni interpersonali e intergenerazionali nuove che possano diciamo così riportare a una nuova normalità i nostri anziani. Il progetto pilota partirà con il reclutamento dei partecipanti il prossimo 2 aprile e prevede un numero chiuso di 45 persone anziane e residenti a Lerici selezionate tra le persone seguite dai servizi sociali e i partner del progetto su base volontaria. Il progetto partirà qui a Lerici da aprile 2022 e terminerà il giugno 2023. Con noi abbiamo l'associazione Psifeco, l'associazione Unitre, l'università della terza età di Lerici, la pubblica assistenza, l'appbook di Lerici con Alessandro Lana e infine il club Apuano Buscido. Questo progetto è multidisciplinare infatti abbiamo una parte di counseling psicologico, di attività fisica adattata, di attività culturali e infine avremo un monitoraggio fatto dalla pubblica assistenza di Lerici e una parte dedicata alla biblioterapia o comunque alla lettura come aiuto a rallentare il declino cognitivo.